Io ho un'esperienza venendo dalle Dolomiti, che è anche lì una zona molto gettonata come qui il lago della Fellaria, posso dire che se lì c'era un 30% di persone che si avvicinavano alla montagna, qui siamo oltre il 60% che è la prima volta. Anche quest'estate il soccorso alpino ha avuto degli interventi per persone non attrezzate, qui non si chiede di essere firmate dalla testa ai piedi, ma di avere il minimo, gli scarponi, la maglia per cambiarsi, il keyway in caso di pioggia, vediamo che c'è ancora poca conoscenza. Il compito penso di un gestore di un rifugio è anche quello di riuscire ad insegnare, e anche col bastone e con la carotta, perché tanti vari non capiscono. La trasferta di oggi è a Chiesa in Val Malenco, a circa tre ore da Milano. Sveglia a un orario improponibile, ma è una gita fattibile in giornata. Se avete due giorni, poi avete fatto 13. La meta è descritta da molti come l'Alaska della Lombardia. Altri invece preferiscono paragonarla al Canada. Che siate fanno meno dei titoli da clickbaiting, la Val Malenco merita almeno un'escursione nella vita. In ogni stagione, in particolare in questa, l'autunno, perché vi potrete godere lo spettacolo degli aceri ingialliti con lo sfondo azzurro ghiaccio del lago di Campogera. Lasciate l'auto sotto la diga di Campomoro. In estate il parcheggio è a pagamento. La tariffa, che negli scorsi mesi ha destato non poche polemiche sui giornali locali, è di 6 euro al giorno. È meglio se vi portate moneta, perché non sempre le colonnine prendono carte o banconote. Il sentiero è il più classico dei classici. Giro lago, 700 metri di dislivello circa, per una durata complessiva di 3 ore comode e con pause foto comprese. Il percorso è spesso indicato come adatto alle famiglie e quindi adatto anche ai bambini. Non è una balla, ma i bambini devono essere particolarmente allenati e bisogna stare anche un po' attenti, perché la presenza del ghiacciaio fellaria, il cui scioglimento alimenta il bacino artificiale, fa sì che le temperature siano sempre un po' più basse rispetto alla media e fa anche sì che la quantità d'acqua che scorre sul terreno, e quindi anche sul sentiero, sia notevole. D'estate significa fango. Da settembre in avanti, ghiaccio e quindi scivoloni. Fate i vostri conti. L'arrivo, dopo un'ora di cammino circa, è al rifugio Bignami, che da giugno ha cambiato gestione. Allora, diciamo che io ho avuto la fortuna di nascere in un rifugio in Trentino, che era del nonno, perché comunque è molto antico, e poi è stato chiuso. Io ho ripreso questo percorso nel 2013, dopo aver fatto per quasi 15 anni il direttore di supermercato per grosse catene in giro per il Nord Italia. Nel 2013 io e mia moglie abbiamo deciso di prendere questo percorso, di diventare il nostro primo lavoro, rifugisti. Anche lei ha lasciato il lavoro, lavorava da commercialista, e questo è stato fino ad aprile di quest'anno. L'idea di poter cambiare, di voler conoscere anche altre nuove realtà, ovviamente ci ha spinto poi a cercare un rifugio. E come si dice, chi cerca, chi cerca, trova. Questa è l'entrata del rifugio. Questa poi è la targa del nome del rifugio, che è Roberto Vignami. Praticamente era proprio anche del CAI di Milano. Questa è la nostra sala da pranzo, e anche sala da colazione. Facciamo la cucina con un orario continuato dalle 11 fino d'estate, fino alle 5, adesso fino alle 3, perché poi dopo non bisogna abituare la clientela a arrivare troppo tardi, perché poi va giù col buio. E siamo anche responsabili, anche nel dare le indicazioni giuste alle persone, poi per rientrare poi a casa. Poi quest'anno ho interdotto anche un pensiero di cos'è un rifugio alpino, perché ovviamente la Val Malenco è comunque molto vicina a Milano, e ovviamente ci sono tantissime persone che si approcciano alla montagna per la prima volta. Allora abbiamo deciso anche di scrivere cos'è un rifugio, che non è un albergo, ma è un'esperienza. Queste diciamo sono tutte uguali, le camerette quelle piccole, sono comunque camerette da quattro posti letto. Ovviamente queste sono le più belle, nel senso che hanno la vista poi verso il lago di Alpegera, insomma. Questa è la cucina, è un appendice che il CAI di Milano circa 10-15 anni fa l'ha fatta. Diciamo che il bello di lavorare in questo posto è che si ha una bellissima vista, proprio del ghiacciaio della Pedaglia orientale. Noi ci riforniamo del 95% con tutti i negozi, negozietti della valle, da Chiesa, Lanzada, Torre e Caspoggio. Tutti prodotti a chilometro zero, chiamiamolo zero, non è vero perché ce li portiamo a spalla, e una grossa parte poi li portiamo con l'elicottero. E poi una parte, c'è il famoso 5%, alcune cose che porto dal Trentino per integrare la mia cucina con quella valtelinese. Le presaule che vengono fatte qui in Val Malenco, ma anche gli affettati in generale, sono praticamente unici, perché come da noi che si mangia lo speck, qui la presaule è un altro mondo, e sicuramente la Val Malenco si presta. e i formaggi, noi abbiamo la fortuna di avere l'Alpefellaria, che è qui alle spalle, poi il Gembrè e il Poschiavino, ma poi abbiamo anche tante aziende agricole nel fondo valle dove producono un ottimo formaggio dal peggio, che lo fanno con la vecchia maniera, cioè ancora con il latte crudo, con la mungitura e tutto quanto, ed è un valore aggiunto che sicuramente da noi in Trentino si è un po' perso, perché da noi adesso ci sono i caseifici che raccolgono tutto il latte. Allora, da bere ovviamente qui in Val Malenco c'è una tradizione che l'abbiamo scoperta qui, che è il gene P, che praticamente è un'erba che cresce a una certa altitudine, e praticamente è un procedimento di infusione della pianta, che poi viene diluita, prima viene infusione nell'alcol, al 90%, e poi dopo viene diluita con acqua e zucchero. Stiamo imparando la ricetta, però anche dal Trentino abbiamo portato le nostre grappe, perché i trentini non siamo produttori diciamo di grappe bianche, perché sappiamo che le grappe bianche più buone vengono dal Veneto e dal Friuli, però siamo bravi nell'aromatizzarle. Allora mia moglie ne fa di diversi tipi, fa dal tarassaco, quel fiori di tarassaco, da urtica limone, dal ginepro, dal rosmarino. No, 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 non è di panoramico, scusa, non è di panoramico, è quello che devono, dove si va per fare la foto. Va bene, ok. Quali sono in questa zona le vie più consigliate di arrampicato, di escursionismo, dalla più difficile alla più facile? Allora diciamo che la più media facile è l'altra via proprio dalla Valmalenco, che praticamente sono circa 112 km, sono otto tappe, si parte praticamente dal rifugio Bosio, si attraversa praticamente tutta la Valmalenco per passare poi qui da noi, andare per la Val Poschiavina, poi si arriva poi a Caspoggio, proprio in otto giorni. Poi la passata più facile qui nei dintorni è il Giro del Lago, che è parzialmente consigliato per famiglie, perché comunque il primo pezzo è facile, poi c'è tutta poi la salita molto bella con le passarelle al rifugio, però anche per le famiglie che magari non sono abituate tanto a camminare, insomma diventa comunque un'escursione media. Poi c'è la ciclabile che parte sempre dalla diga che ovviamente segue il versante della Poschiavina per andare verso Poschiavo in Svizzera, l'escursione più importante e più difficile non è proprio il punto di partenza principale, ma è quella che poi si sale passando per la Marinelli e il Marco Erosa sul Bernina, che poi è la meta per chi ama fare alpinismo o come li chiamano i pestaneve con i ramponi. Poi un'altra escursione ovviamente più leggettonata che ovviamente ormai tutti sanno è poi il lago glaceologico della Felleria con i tre percorsi che ovviamente in questi ultimi due o tre anni sta diventando diciamo una meta molto frequentata. Ecco anche per i motivi che proviamo a tenere di sabato e la domenica è ancora aperto anche per dare un servizio per chi sale insomma. Se come noi dovete tornare a Milano alle 16.30 e avete magari anche delle interviste da registrare nel mezzo probabilmente non riuscirete a seguire il percorso glaciologico e a fare la foto per cui tutti vanno al Fellaria cioè quella davanti al ghiacciaio. Ma se andate al Bignami passateci aggiungendo un'oretta di cammino al vostro itinerario. Se invece non avete voglia di camminare sappiate che potete fermarvi sotto al rifugio dove ci sono diverse pareti attrezzate per l'arrampicata grado medio difficile e sono solo alcune delle 120 della Val Malenco. In ogni caso scendendo in estate ovviamente incrocerete due alpeggi aperti dove magari acquistare i formaggi di cui ci ha parlato Giovanni e fatelo senza sensi di colpa perché tanto siate in giro dalla mattina presto e ve le meritate di sicuro. Intanto per andare al Bignami avete tempo fino ai primi di novembre al massimo fino alla prima neve per trovarlo aperto perché poi il sentiero verrà chiuso tanto che programmi avete per questo sabato. A presto a presto